Io sono Cristian Mandolesi, sono un classe 2002, faccio l'attaccante centrale, ma posso giocare anche esterno, anzi a dire la verità esterno mi trovo addirittura meglio. Faccio parte del gruppo Under 16 della Pescara Calcio, allenato da Mr. Emanuele Besoli. Mi piace giocare più sulla fascia perché penso di avere un buon passo e tra l'altro mi piace di più triplare in quella parte del campo piuttosto che in mezzo dove è più difficile. Preferisco giocare a sinistra a piede invertito, dato che io sono destro. Prendere il posto di un giocatore che attualmente è in prima squadra in futuro e giocare allo stadio triatico è il mio sogno e quindi sarebbe bellissimo provare un'emozione del genere. Dall'accento si capisce, sono marchigiano, precisamente di Civitanova Marche e per questo essendo di fuori regione sono inconvitto. La distanza non è molta, sono 100 km, comunque non è facile vivere fuori casa, però io qui mi trovo bene, mi sento trattato bene, la mia famiglia mi sta sempre vicino, spesso viene a trovarmi e questo mi ha una grande forza. Lasciare la propria casa non è stato, non sarà semplice, anzi è sempre più difficile col passare del tempo, ma io sono qui per inseguire un sogno e questo è un sacrificio dei tanti che dovrò fare per realizzarlo. Grazie a tutti!